Ci troviamo in compagnia di Giancarlo Ranges, amministratore delegato di Ascol, molto piacere. Piacere, amministratore delegato di Ascoleva. Allora, alle nostre spalle possiamo trovare il nuovo Comset Ascol, ci puoi dire qualcosa al riguardo? Sì, quello che vediamo qui presentato è EICMA in anteprima, il nuovo concetto di scooter elettrico Ascol che arriverà prossimamente sul mercato, con il quale l'azienda si propone da un lato di dare maggiore performance, velocità, pur mantenendo le caratteristiche di autonomia che sono le eccellenze dei nostri prodotti e dall'altro lato di superare gli ultimi ostacoli verso la clientela privata in termini di ergonomia, abitabilità e comfort del veicolo stesso. Con questo scooter l'obiettivo di Ascoleva è quello di diventare leader indiscusso nel mercato delle due ruote, non solo elettrico. Approfondendo un attimino l'argomento mercato, Ascol e mercato, come si trovano? Quest'anno stiamo chiudendo un'annata per Ascol decisamente positiva, in particolar modo in Italia siamo ormai decisamente leader sul mercato delle due ruote elettrico con una quota di mercato che supera il 75% e abbiamo, con particolare riferimento al segmento dei 50cc, raggiunto una posizione di tutta visibilità nel mercato complessivo. Siamo fatti in Italia il quarto marchio, compresi i produttori di scooter endotermici. La domanda oggi è trainata soprattutto dall'utenza professionale, sharing e delivery, ma con questo nuovo scooter e altre soluzioni qui presenti sullo stand contiamo ad allargare la nostra penetrazione anche nella clientela privata. Grazie e in bocca al lupo per le prossime sfide. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.